Dopo la vittoria dell'andata, l'Arezzo Calcio Femminile cercava il bis in casa con il Perugia nell'ultima gara casalinga della stagione per un derby particolarmente atteso a coronamento di uno stupendo campionato che ha visto la squadra Maranto ottenere la salvezza con diverse giornate di anticipo. Ottima la partenza delle ragazze a Maranto che già al sesto minuto trovano il vantaggio. Paganini lancia Mattiacci che a tu per tu con il portiere avversario sblocca la partita, grande freddezza davanti al portiere e vantaggio dell'Arezzo nel derby. Passano pochi minuti e l'Arezzo potrebbe raddoppiare con occhi al termine di una trascinante irrefrenabile serpentina e il pallone finisce largo. Il Perugia prova a reagire e Fiorucci lancia Bianconi che scavalca Antonelli con un pallonetto. La palla si stampa sulla traversa prima di essere allontanata dalla difesa Maranto. Prima dello scadere del tempo arriva a sorpresa il rosso in panchina. La giocatrice a Maranto Torrioli viene espulsa. Nella ripresa il Perugia sfiora il pareggio ma Antonelli si supera con una bella respinta in area di rigore. La partita viaggia tranquilla in mano all'Arezzo ma al venticinquesimo Ceccarelli inventa una conclusione pazzesca dalla distanza che supera il portiere Antonelli. È uno a uno davvero splendida l'esecuzione dalla distanza da posizione piuttosto defilata. Prima del recupero l'Arezzo recrimina. Verdi lanciata in porta trova il gol del vantaggio ma scatta la bandierina del fuorigioco. La posizione in realtà sembra regolare al momento del lancio. Finisce dunque uno a uno tra Arezzo e Perugia. Le Umbre chiudono al settimo posto e le ha maranto all'ottavo mentre il Sassuolo vince il campionato approfittando della sconfitta del Vittorio Veneto.